Salve a tutti. Questo è il secondo dei tre video in cui tratterò di cosa pensano i testimoni di Geova della filosofia. In realtà, data la natura della filosofia, di cui mi sono occupato in dei video, nella pratica questo è un discorso che riguarda la libertà di pensiero in generale. Infatti questi video sono indirizzati non tanto e non solo ai testimoni di Geova. Perché loro non cambierebbero idee nemmeno se viene Gesù in persona a tentare di convincerli. Questo video sono indirizzati soprattutto a chi non sa cosa sia la filosofia, o a chi crede che sia inutile o brutta. Per questo io vi esorto ancora di più a diffondere questi video il più possibile e per sostenere il canale vi invito anche a mettere like, guardare gli altri video e iscrivervi. In particolari modo vi consiglio di guardare la miniserie su che cos'è la filosofia, che vi metterò tra le schede. Nel primo video ho cercato di mostrare innanzitutto che il loro concetto di filosofia è sbagliato, analizzando una delle loro pubblicazioni, riperibili online. In questo secondo video cercherò di mostrare che non è vero che la filosofia propriamente intesa sia necessariamente contraria alla Bibbia. Nel terzo video cercherò anche di mostrarvi come loro stessi sono in parte influenzati dalla filosofia, sebbene abbia accennato qualcosa nel video precedente. In questo video quindi cercherò di mostrarvi che la filosofia, per come l'ho intesa nella miniserie su che cos'è la filosofia. In 1 Tessalonicesi 5 e 21 c'è scritto esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono. In Atti 17 e 10, 11 si parla dei bereani, che per l'appunto, esaminavano la Bibbia per accertarsi delle cose dette da Paolo e Sigla. Questo è un tipico atteggiamento filosofico, oltre che filologico. Infatti in filologia i testi vengono studiati accuratamente, prima si cerca di ricostruire il testo originale a partire dai ritrovamenti archeologici dei manoscritti. Poi si cerca di dare una traduzione il più possibile fedele all'originale. E poi aggiungo che l'esegesi cerca di stabilire qual è il significato corretto del testo. E i TDG quando conviene a loro dicono che l'intendimento della Bibbia si perfeziona nel tempo. E quando conviene a loro quindi il corpo direttivo può cambiare idea. Invece i filologi e gli esegeti seri non hanno dogmi o certezze e basano tutto sul metodo e la ricerca. I risultati possono sempre essere messi in discussione. Questo atteggiamento è in comune con la filosofia stessa. Per cui un atteggiamento filosofico scettico di fondo è fondamentale per lo studio della Bibbia stessa. Tornando ad analizzare i testi biblici, in Proverbi 12 1 c'è scritto Chi ama la correzione ama la conoscenza, ma chi odia la riprensione è uno stupido. Inoltre in Proverbi 14 e 15 c'è scritto Lo sciocco crede ad ogni parola, ma l'uomo prudente fa bene attenzione ai sui passi. Sembra quasi che la Bibbia ci voglia tutti i filosofi. Nell'articolo analizzato nel video precedente, i TDG condannano la filosofia in quanto pensiero umano e non divino. Vogliamo parlare di quanto di umano c'è nella Bibbia? In fondo è stata scritta dalla mano degli uomini. Anche se i credenti credono che sia ispirata. Ad esempio in Re 5 e 13 c'è un elenco di animali non dissimile da quelli presenti in altri scritti di altri popoli medio orientali come Egitto e Mesopotamia, come spiegano studiosi come H.R.Richter, G.I.F.O.M.U.R.D.A.L.O.P.N.I.M., per non parlare di quanto la Genesi abbia delle somiglianze con altri racconti sulla creazione o sul diluvio, nonostante gli elementi originali, ma questo è un argomento a parte. Ma tanto è inutile provare a spiegarlo ai TDG, sì, perché per loro la Bibbia è stata dettata parola per parola da Dio stesso agli autori umani dei libri. Ci sono passi della Bibbia stessa che affermano chiaramente che certi insegnamenti sono di origine umana, come ad esempio Proverbi 1, 8, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 6 e 20, 7, 1, 2, 13 e 14. Nei testi deuterocannonici, che per i TDG non farebbero parte della Bibbia, come Sapienza 7 e 17, 22 o Siracide 38, 1, 15, vengono esaltate le scienze naturali come fonte di conoscenza. In un articolo del sito Ilunga W dice che è lecito fare ricerca scientifica e menziona proprio quell'elenco di Primo Re 5, 13 come prova che si può essere interessati agli studi naturali. Volendo tornare a parlare di Paolo, lui che diceva che non dovevamo lasciarci ingannare dalla filosofia si dimostra conoscitore della retorica e dell'eloquenza quando tiene i suoi discorsi negli Atti degli Apostoli, soprattutto quando viene arrestato, e in particolari modo in Atti 23, 6, quando mette in pratica un'astuta strategia di difesa davanti al Sinedrio, mettendo i Farisei e i Sadducei gli uni contro gli altri. La retorica e la filosofia sono sempre state antedoniste, perché la retorica ha come obiettivo farti avere ragione a prescindere, anche quando è torto, mentre la filosofia ha come obiettivo la verità. Ovviamente la retorica e la argomentazione non sono di origine biblica, eppure Paolo le conosceva e le usava. Riguardo la filosofia, Paolo nel suo insegnamento mostra di essere influenzato dalla filosofia stessa, ad esempio dallo stoicismo, perché anche lo stoicismo parlava di pauparismo e di farsi bastare quello che si ha, come mostra in 2 Corinzi 9, 8 e Filipesi 4, 11, 12. Inoltre accenna anche alla teologia naturale, cosa che come vi ho spiegato nell'altro video hanno fatto anche testimoni di Geo dall'inizio della pubblicazione, parlando dell'universo come progettato da un'intelligenza. Paolo accenna questo argomento in Romani 1 e 19, 23, dove dice che Dio si manifesta nel creato e l'intelletto può comprendere Dio attraverso il creato, anche se limitatamente, e condanna chi immagina Dio come antropomorfo o zoomorfo. Questa è una dottrina di origine platonica. Anche qui parla di vani ragionamenti, devo forse pensare che questi siano i ragionamenti di origine metafisica che Kant arriverà a criticare in quanto oltrepassano i limiti della ragione umana, in 1 Corinzi 13, 9, 12 parla della nostra conoscenza umana imperfetta, ma dice che in Paradiso avremo una conoscenza perfetta, oltre i limiti della corporità umana, in 2 Cor 4 e 18 è influenzato dalla teoria delle idee, dove distingue le cose visibili che sono passeggere dalle cose invisibili che sono eterne. Riguardo la teologia negativa, secondo la quale Dio è inconoscibile dalla mente umana, la filosofia platonica e la Bibbia sono arrivate a dire le stesse cose in modo parallelo. Solo che poi il neoplatonismo nasce dopo la fine della stesura del Nuovo Testamento, per esso è stato anche influenzato dal pensiero cristiano, ad esempio in Esodo 33, 20, 23 c'è scritto Non puoi vedere il mio volto, perché l'uomo non può vedermi e vivere ribadito da 1 Giovanni 4 e 12. Nessuno ha mai visto Dio, Isaia 45, 15, dice. Veramente tu sei un Dio nascosto, Isaia 55, 8. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Inoltre nel libro di Giobbe viene ribadito più volte che Dio non è conoscibile dalla mente umana, come in Gb 11, 7, 8. Pretendi forse di sondare l'intimo di Dio e di penetrare la perfezione dell'Onnipotente? Oppure in Giobbe 28, 12, 28. Per il momento non è tutto, il video prosegue con la terza parte, recupera la seconda se te la sei persa. A presto.